Chiama il centro dei cartomanti europei, ad accoglierti in studio troverai i migliori professionisti della divinazione. Ti offriamo la nostra esperienza e la grande serietà che da oltre 20 anni ci contraddistinguono. I nostri centralisti ti accoglieranno tutti i giorni dalle 7 alle 2 di notte al 0773 49 36 60. Sapranno consigliarti la cartomante più adatta alle tue esigenze. Scopri le dirette in tv e tutti i contenuti sul nostro sito www.cartomanti-europei.it e chiamaci. Ti renderemo il sorriso. Farola di moglie. Bene ritrovate amiche e amici di Cartomanti Europei. Rintrescente del anche il mese di luglio è pronto per darvi tutte le notizie riguardanti il vostro oroscopo per questo mese meraviglioso caldo estivo di luglio 2015. Andiamo con l'aliente. Il mese di luglio vi richiederà tatto e capacità di comunicazione. Incontrerete qualche difficoltà di troppo nei rapporti in ambito lavorativo. Calma e sangue frutto saranno fondamentali. In amore un dubbio incessante rischierà di confonderti. Toro. Qualcosa di realmente inatteso sconvolgerà questo mese di luglio. Tenete a base i nervi anche se qualche disservizio di troppo metterà a dura prova la vostra pazienza. In amore siate spontanei e farete colpo senza neanche accogliervi. Gemelli. Sarà un mese agrodolce. Se passerete sopra piccoli problemi di ogni giorno riuscirete a sorridere e a ridimensionare le vostre preoccupazioni. In amore dovrete fare attenzione a una viscola in cui rischierete di perdere ciò a cui venite. Quindi mi raccomando con molta calma. E poi andiamo al segno del mese. Questo mese è il segno predominante del cambro. Quindi dedicheremo un pochino più di tempo a questo segno zodiacale. Sarà un luglio un po' agitato per voi amici del cambro. Una serie di piccoli ritardi saranno la causa che aspettavate per iniziare alcuni batti vecchi. Dovrete fare attenzione a non lasciarvi scappare la situazione in mano. Infatti, in caso di esito negativo, vivrete l'intero mese con una sensazione di incompetenza. Dovrete essere più tolleranti in confronto di chi vi ha sempre dimostrato felicità e amicizia. In amore siete pronti ad affrontare una discussione che però avrà un errore. Leone. Durante il mese qualcuno tenterà di raggirarvi. Dovrete capire se sia un inganno affiddi bene oppure con lo scopo di dammeggiarvi. In ogni caso fallirà qualsiasi progetto contro di voi. In amore la pazienza vi farà ottenere buona parte di ciò che desiderate. Vergine. Attenzione a ciò che dite. Qualcosa che uscirà dalla vostra bocca verrà completamente travisato dai vostri interrompitori. Nei saldi di questo mese per voi si preannuncia bollente non solo per il clima. In amore le credete sui vostri parametri di scelta. Bilancia. Ogni cosa risulterà al posto giusto. Dovrete organizzare tutto nella maniera migliore in ambito lavorativo. Un po' di tensione potrebbe cogliervi in prossimità di un evento che ad ogni modo armamenti. In amore la vicinanza quella persona amata di primità. Scorpione. Nel corso di questo mese vivrete alcune piccole avventure. Un po' di monotonia sul lavoro ma troverete soluzione se deciderete di dedicarvi a un notti che romperà la routine quotidiana. In amore riuscirete a cogliere un'occasione che saprete leggere tra le due. Sagittario. Un nuovo inizio diventa sempre più prossimo. Durante il mese non dovrete lasciare spazio a paure e tempi in amici. Perciversare potrebbe dire renunciare a una notevole opportunità anche lavorativa. in amore sarà bene dire solo lo stretto necessario. Capricorno. Viverete un luglio decisamente atipico. Alcuni impegni vi toglieranno dalle vostre normali attività ma non necessariamente creeranno una situazione non negativa. In amore avrete la possibilità di mostrare le vostre capacità e le parole potrebbero non scoprire. Acquario. Luglio vi vedrà i tegnanti in attività che andranno a colmare un piccolo vuoto. Sarà bene esplorare nuovi settori. Conoscere nuove persone eviterà che si sviluppi il malessere. In amore dovrete rendere da parte il vostro lavoro. Pesci. Questo luglio sarà per voi un mese particolarmente reddizio. Vi troverete in compagnia di persone a cui tenete parecchio. Riuscirete ad assorbire senza danni alcune piccole delusioni. In amore le vostre azioni otterranno un risultato soddisfacente. E anche questo mese abbiamo letto il vostro oroscopo. Ma vi lamentiamo che grazie al nostro sito www.cartomantieuropei.it potete richiedere il vostro oroscopo personalizzato dandoci piccole informazioni. Il vostro nome, non necessariamente il cognome, ma è importante la vostra città di nascita e la vostra ora precisa. E sarà per noi un piacere darvi il vostro oroscopo per questo desiderio. Intanto vi ringrazio, seguiteci sempre e buona giornata. Chiama il Centro dei Cartomanti Europei. Ad accoglierti in studio troverai i migliori professionisti delle divinazioni. Ti offriamo la nostra esperienza e la grande serietà che da oltre vent'anni ci contraddistinguono. I nostri centralinisti ti accoglieranno tutti i giorni dalle 7 alle 2 di notte al 0773 49 36 60. Sapranno consigliarti la Cartomanti più adatta alle tue esigenze. Scopri le dirette in tv e tutti i contenuti sul nostro sito www.cartomanti-europei.it e chiamaci. Ti renderemo il sorriso. Parola di moglie. Grazie a tutti.